Musica Porte aperte al tiro a segno a Ravenna insieme con Ivo Angelini, segretario del tiro a segno a Ravennate ma anche consigliere nazionale dell'Unione Italiana a tiro a segno perché questo sport non è molto conosciuto e invece vanta tra l'altro dei primati anche a livello nazionale, internazionale, europeo, mondiale importantissimi, segretario. Sì, esatto, infatti alle ultime Olimpiadi di Londra la federazione di tiro a segno italiana è stata seconda a livello nazionale prima a livello europeo e terza a livello mondiale per quel che riguarda il tiro a segno quindi un risultato eccellente mai raggiunto fino ad ora. Molti non sanno nemmeno che è uno sport olimpico. No, il tiro a segno è uno sport olimpico che ci ha dato appunto, come dicevo prima, grandi soddisfazioni a Londra con ben tre medaglie di cui due d'argento e una d'oro. È uno sport che aiuta moltissimo la concentrazione e questo qui è un dato di fatto, insomma, è uno sport misconosciuto, questo è vero e purtroppo è anche uno sport che paghi il dazio di ciò che comunemente si pensa. Si pensa che l'utilizzo di armi o strumenti di tiro sia uno sport violento, ma non è assolutamente vero, anzi all'interno dei tirassegni italiani sono quasi 300, tutti gli impianti sono omologati o dalla federazione o dal genio militare e questi strumenti di tiro vengono utilizzati in massima sicurezza all'interno appunto delle nostre strutture. Porta aperta al tirassegno è stata una manifestazione fortemente evoluta dall'Unione, ha avuto un successo insperato perché comunque questo tipo di manifestazione era abbastanza comune nei vari tirassegni, però era fatta in diversi periodi. L'Unione oltre a promuoverla fortemente sul territorio nazionale ha anche dato alcune direttive ai vari tirassegni per la buona riuscita di questa manifestazione, fornendo anche gadget, fornendo supporto logistico e siamo arrivati ad avere nella stessa giornata l'apertura di 100 tirassegni. È un ottimo risultato e cosa possiamo dire? Possiamo dire che questa porta aperta al tirassegno è un'operazione prettamente divulgativa del nostro sport, il nostro sport che è poco conosciuto. Speriamo che nel prossimo futuro invece di 100 tirassegni siano 300, è una cosa che ci auguriamo tutti quanti. Daniele Filipponi, presidente del tirassegno Ravenna, un tirassegno dove le attività sono davvero numerose, si rivolgono ai bambini. Per capire, aiutare i nostri telespettatori anche a comprendere che cosa realmente si fa qui con i bambini a partire da 10 anni, ci può aiutare il presidente? Certamente. Con i ragazzi che noi abbiamo presso la nostra associazione, il nostro tirassegno, noi con questi ragazzi innanzitutto vogliamo presentare un buon ambiente dove in questo ambiente imparano soprattutto a comportarsi bene e a utilizzare molto quella che è la concentrazione durante la fase dell'utilizzo delle nostre armi che mettiamo a disposizione. Per i ragazzi di 10 anni vengono qui per imparare a fare i corsi per l'utilizzo della pistola ad aria compressa a 10 metri e per quello che riguarda le carabine sempre per aria compressa a 10 metri. Naturalmente poi da questa attività c'è anche quella prettamente sportiva per misurarsi inizialmente a livello regionale con altre squadre, altre attività che vengono svolti in altri tirassegno a livello regionale ma anche nazionale. Siamo con Nicola Maffei, sei volte campione nazionale di tiro assegno e anche bronzo agli europei. Intanto due parole su questo sport che nella sua vita ha significato tanto. Maffei è uno sport che riesce a regalare emozioni davvero importanti, d'altronde un po' come tutti gli sport fatti agonisticamente parlando. Io posso parlare in questo senso perché dell'agonismo ne ho fatto una scelta di vita. Tra l'altro Ravenna è avvanta di risultati importanti, lei ne ha una testimonianza assoluta. Sì, di Ravenna bisogna ricordare che c'è stato un campione olimpico già negli anni 30 per cui nella disciplina che io frequento. Tirassegno significa tante discipline diverse, quindi modalità di tiro diverso, con armi diverse, dà la possibilità a tutti di poter partecipare a questo sport e quindi ragazzi fin dai 10 anni possono iniziare ad esercitarsi presso le palestre indoor, queste che vediamo qui alle spalle o persone non più giovanissime come me che continuano a fare dell'agonismo. In altri sport è davvero molto difficile. È uno sport che è destinato davvero a tutti. Non c'è distinzione di sesso e l'età non influisce assolutamente. Certo che un giovane è meglio, però come per ogni cosa, però davvero tutti, disabili compresi ovviamente. Devo dire la verità che non sono arrivato a questi risultati da giovane, non ho avuto questa possibilità. Ho iniziato un po' più tardi e quindi questa è una testimonianza che questo è uno sport davvero per tutti. È arrivato dopo un po' di anni di sacrifici perché come tutti gli sport richiede un impegno e sacrificio. Bisogna vedere come viene preso e di dove si vuole arrivare ovviamente. E siamo con un babbo il cui figlio Emanuele frequenta questa disciplina già da tempo con brillanti risultati, ma soprattutto ci raccontava di risultati importanti anche in altre versanti della vita che ha raggiunto proprio grazie alla concentrazione del tiro a segno. Sì, questo è vero perché il tiro a segno, essendo una disciplina dove ci vuole molta concentrazione, questa concentrazione poi viene riversata anche negli studi. Quindi io come padre ho potuto riscontrare dei notevoli progressi anche a livello scolastico. Invece c'è questo luogo comune nei genitori che oggi cerchiamo di sfatare anche con questo nostro servizio, dove il tiro a segno si collega a un'idea di violenza, un'idea dello sparo, dell'arma, un'idea che non è condivisa da molti ed è per questo forse che bisognerebbe cercare di entrare più dentro questa realtà per capirla fino in fondo. No, questo è proprio un luogo comune da sfatare perché qui è un ambiente sano dove ci sono degli istruttori molto competenti. Il tiro a segno è una disciplina olimpica, quindi qui non si maneggiano armi liberamente ma sotto scrupoloso controllo di istruttori che insegnano i ragazzi non a vedere un'arma come un oggetto di offesa ma un oggetto di divertimento per imparare proprio nell'ambito sportivo anche perché ricordiamo è una disciplina olimpica quindi molto rinomata. Sperando che arrivino più ragazzi perché qui c'è carenza, ci vorrebbero molti più ragazzi e io auguro che arrivino molti più ragazzi perché fa bene lo sport. E anche qualche ragazza, perché no? Soprattutto qualche ragazza. Siamo con Roberto e Giorgio, rispettivamente padre e figlio, un ragazzino che si è avvicinato a questo sport proprio in questa occasione, un anno fa? Un anno fa sì, in occasione della manifestazione qui di Porta Aperte siamo venuti a vedere com'era l'ambiente, abbiamo trovato un ottimo ambiente soprattutto anche nella parte sotto dove c'è ping pong, calcino, insomma quindi prima dello sport si può iniziare con quello. Un amore a prima vista insomma? Diciamo che per mio figlio sicuro, anche per noi comunque che abbiamo riscontrato un buon ambiente e niente, dall'anno scorso dopo svariati sport, basket, pallavolo, piscina, di tutto, insomma questo qui pare lo sport azzeccato per mio figlio. Questo sport Giorgio ha una marcia in più, è così? Sì esatto. Perché? Innanzitutto come al contrario degli altri sport, è uno sport che mi piace fare, lo farei tutti i giorni, anche quando sono stanco e poi come dice mio babbo non è uno sport di contatto diciamo perché a lui non piacciono, non piacciono neanche a me e niente, è partita così da mio amico che me l'ha consigliato, io sono andata all'open day e da quel giorno... Ascolta Giorgio hai trovato anche un po' una famiglia qui perché c'è un clima davvero conviviale anche, come diceva il babbo sono tante altre attività, tra l'altro di gioco che si possono praticare nei momenti così di pausa. Sì e soprattutto mi sono fatto abbastanza amici come Nicolò, giochiamo sempre e soprattutto anche qui sopra in cui è un luogo che non si dovrebbe fare, poi però quando è il momento di concentrarsi smettiamo e basta. Sì anche perché sappiamo che hai avuto dei risultati importanti. Sì adesso ho fatto qualche gara, mi sono qualificato per i campionati italiani, sono arrivato cinquantacinquesimo però il mio amico Nicolò è arrivato secondo. Complimenti, allora quest'altro anno andrai vicino a Nicolò sicuramente. Allora speriamo, solo che per il prossimo anno mi devo ancora qualificare. La Rita ha detto, che è la mia insegnante, ha detto che quest'altro anno forse ha un po' più di probabilità di andarci. Un altro protagonista junior in questo caso davvero insomma siamo con un piccolo campione Nicolò è così? Sì, sono arrivato secondo ai campionati italiani quest'anno. Secondo è un ottimo risultato, te l'aspettavi? No proprio no, pensavo di arrivare neanche quinto e invece sono arrivato secondo con lo stesso punteggio del primo. Mi dicevi Nicolò che questo sport, il tiro a segno è uno sport che ti ha cambiato la vita in qualche modo. Sì mi è sempre piaciuto fare uno sport come questo e finalmente sono qui e cerco di andare sempre più avanti. E mi hai detto non vedevo l'ora di comprare dieci anni, perché? Per venire qui a provare visto che dieci anni posso venire. Qual è il tuo idolo in questa disciplina? Nicolò Campriani che è arrivato primo alle Olimpiadi. Quindi tu lo segui anche proprio da casa, da vicino questo sport? Sì, quando posso lo guardo sempre. E ti dà un'emozione particolare? Sì, spero di arrivare sempre al suo livello ogni volta che lo venda. Siamo con un'altra giovane atleta del tiro a segno di Ravenna, Amanda, e di ragazze se ne vedono poche e invece sarebbe bello crescere qui al femminile. Sì, siamo soltanto due purtroppo e quindi in mezzo a tutti questi maschiacci. Cosa vorresti? Beh, di sicuro una presenza femminile un pochino più ampia, perché comunque è un bello sport, dove non è che si fatica diciamo col corpo, ma è più tra virgolette una fatica mentale, perché ci si allena molto e di conseguenza diciamo aiuta molto la concentrazione. Dopo anche a scuola si riesce a stare più concentrati e soprattutto rilassa tanto. E quindi sono obiettivi molto belli. Vuoi fare un appello alle mamme e ai genitori delle ragazze che sono in ascolto? Ma sì, dai, vi aspettiamo qua tutte numerose e speriamo di avere una presenza femminile maggiore, dai. Ciao!